Ragazze, i vibratori sono molto importanti La salute Mentale e fisica Raccontami un attimo, anche brevemente Io voglio sapere come hai cominciato a fare la modella Mamma che noia Ma veramente? Dai, dimmelo, dimmelo A che età ho avuto le prime esperienze sessuali? Cioè, chiedimi le cose più piccanti A che età ho avuto le tue prime esperienze sessuali? Ah, 18 anni Con chi? Se ricordi? Sì, con un... Allora, praticamente ero un'unica... No, anzi a 16, scusa A 16? Non devo più mentire Perché una volta in Croazio Mentivo mia madre Quindi non sono più in Croazio Ti è rimasta quella bugia radicata A 16 anni Anzi, sì, a 16 anni Tutte le mie compagnie di classe Hanno avuto già esperienze Quindi ho preso il mio migliore amico Era orribile Non era assolutamente quello che ti aspettavi Però per la me l'ho fatto con il mio migliore amico Sì Poi ho smesso di esercitare per due anni E a 18 anni ho ripreso Questa attività Molto sana È stato un trauma Molto sana È stato un trauma Sì, però non un trauma Perché è stato Non avevo le aspettative Di solito noi donne Non siamo ragazzine Stangiamo con questo principe azzurro Prima volta Amore No, invece è stato molto, molto Cioè Ok, così Sì È stato meccanico È stato meccanico Sì Molto pragmatico Quindi Non c'era bisogno di nessuna soddisfazione Non lo vedevo così Perlomeno E quindi è stato sì È stata tipo la prova generale Prima di fare un salto Un po' più alto Però ci devo essere sincera Che io veramente La mia sessualità Poi Diciamo L'ho scoperta Per davvero A 33 anni Anni di Cristo Pensate Perché? Che è successo? Perché Io non è che ho avuto Questo grande rapporto Con la mia sessualità Durante tutti questi anni Perché sono di una famiglia Molto religiosa Quindi tutte queste stigme E quindi Io proprio Non provavo piacere E invece A 33 anni Sono stata con questo ragazzo Che mi ha spiegato Che esiste anche Una cosa che si chiama Clitoride E Sì E quindi E da lì è cambiato tutto Da lì Ho scoperto Godesh Tutto in più No A parte scherzo È una cosa sana È giusto Però Ognuno Prende Cioè Ha il suo tempo Sì Io ho 33 anni Quindi Mio figlio è stato concepito Senza orgasmo Scusa Carlos Scusa anche Fabrizio Magari Mi fingevi Non lo so Sì Perché Allora Innanzitutto Non è che fingevo Sapendo Perché non sapevo nemmeno Cosa sia orgasmo Io pensavo Cioè Ho pensato Ma scusami Ma tutti parlano Di questo sesso Che fosse Sia una cosa Meravigliosa Poi A dire il vero Non l'ho mai visto Ma non li guardo nemmeno adesso Non guardo su un porno Ma hai visto un film porno Tutto ciò che si sa esattamente E sa come Non c'è bisogno di un uomo Per avere un orgasmo Anzi Il migliore orgasmo L'ho avuto Con il mio vibratore Grazie Lello Lello è uno No Senza pubblicità Lello è uno Sì però Ragazze I vibratori Sono molto importanti La salute Mentale Fisica Facciamo questo ampello Sevi stata con una donna Onestamente Sni Mi piace Ormai sei voluta Entrare te In questo argomento Ci vai fino a un fondo Infatti mi stai rostando Don Brady Mi stai rostando E quindi sì Ha scelto questo roasting Sì Diciamo che mi è piaciuta L'idea Di provare Però Senza andare Finne fondo Perché Sono noiosa Le lesbiche Figa No le amo Come amiche Però Cioè poi alla fine Usano cazzo finto E quindi Prendolo quello giusto Quello vero Che gusto c'è Poi no Per la mente Ok ho capito Sì magari noi donne Ci capiamo No Le donne no E quindi sì